è possibile montare la parte di un incontro a Palermo la scorsa settimana e sarei venuto anche qui nel pomeriggio, se non ci fosse stato solo, non ci faccio sulla legge elettorale e oggi pomeriggio sono venuto qui per ribadire l'importanza di Catania rispetto al distretto e valutare insieme agli altri prefetti delle altre quattro province della Sicilia orientale lo stato dell'arte relativamente alla vicenda generale dell'ordine e di tutte le materie di nostra competenza. Penso che questa riunione da quello che ha detto il prefetto di Catania possa essere davvero proficua e operosa e per cui adesso ci mettiamo a lavoro dopo l'articolata relazione del prefetto di Catania, per cui io ringrazio gli operatori della stampa che ci hanno onorato della loro presenza e poi noi ci metteremo a loro disposizione alla fine per le nostre domande.